Sono 15 nuovi casi di covid in Abruzzo. Il più giovane tra i contagiati ha 8 anni, il più anziano ne ha 71. Di questi 12 sono residenti in provincia di Chieti, due in quella dell'Aquila, uno nel Terramano, mentre nessun nuovo caso è stato registrato nel Pescarese. È quanto emerso dall'analisi di 1150 tamponi molecolari per un tasso di positività dell'1,3%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due casi e sale a 2.482. Si tratta di una 67enne della provincia di Chieti e di una 79enne della provincia dell'Aquila. Considerando anche gli ultimi 79 guariti, attualmente in Abruzzo sono 5.493 positivi accertati, 66 in meno rispetto a ieri. I ricoveri in rapida flessione su base settimanale aumentano di tre unità rispetto a ieri, passando da 147 a 150 posti letto occupati, di cui oltre il 90% in terapia non intensiva. Nel dettaglio 137 pazienti, 4 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 13 sono quelli in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri, mentre gli altri 5.343 positivi accertati, 69 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.